La parte prima, quella che vi dicevo che vi introduce un po' allo studio del diritto d'autore alla materia e normalmente io apro con questa slide che è a mio avviso ben esplicativa, qua parlo di proprietà intellettuale, proprietà intellettuale, diritto d'autore, copyright, ci sarebbe da fare magari una precisazione terminologica ma insomma nell'ottica del nostro corso li possiamo anche usare come sinonimi, nel gergo comune ormai si utilizza proprietà intellettuale appunto come sinonimo di tutte le forme di tutela della creatività comprendendo anche la parte sui marchi, sui brevetti di cui noi non ci occuperemo però ecco tutti questi istituti giuridici che vi ho nominato, noi ci occuperemo principalmente del diritto d'autore, anzi unicamente del diritto d'autore si possono studiare con questi due diversi punti di vista, con queste due ottiche che sono l'ottica del titolare dei diritti e l'ottica opposta speculare dell'utilizzatore, cioè da un lato c'è colui che ha interesse a sapere quali sono i diritti che la legge gli riserva per tutelare le sue opere, quindi quali diritti, quali tutele prevede l'ordinamento giuridico per tutelare le opere creative se parliamo di diritto d'autore, per tutelare i marchi, i segni distintivi se parliamo di diritto dei marchi e delle invenzioni industriali se parliamo di brevetti e questo è il lato arancione, il lato blu invece è il resto del mondo diciamo cioè da un lato c'è appunto il titolare dei diritti che vuole sapere come tutelarsi ma dall'altra parte ci sono tutti coloro che invece vogliono sapere come e in quali termini possono utilizzare le opere fatte da qualcun altro dal sondaggio che voi mi avete condiviso nei giorni scorsi mi sembra di percepire, e anche qui è abbastanza un classico nel mondo delle biblioteche mi pare di percepire che voi vi sentiate più sul lato blu che sul lato arancio perché sì, nel senso la biblioteca è quel luogo in cui vengono raccolte opere e riorganizzate e messe a disposizione del pubblico le opere scritte da altri e quindi c'è più un interesse a sapere cosa una biblioteca può fare o non può fare con le opere degli autori però è vero fino a un certo punto, nel senso che questo confine che qua vedete nella slide come tracciato da una riga bianca, in realtà è un po' più sfumato di come l'ho rappresentato perché è difficile considerarsi sempre nettamente da una parte o dall'altra perché un utilizzatore comunque, esempio delle biblioteche ha anche delle situazioni in cui si deve comportare come creatore, come titolare di diritti cioè la biblioteca organizza la lettura in pubblico, organizza un evento, crea la locandina crea dei materiali, crea le dispense, crea il video con un montaggio, una piccola regia da condividere sui social e quella è un'attività creativa e quindi automaticamente diventa anche titolare dei diritti quindi ecco che entra in gioco anche per un ente che per sua vocazione è utilizzatore in realtà entra in gioco anche l'ottica del titolare dei diritti stessa cosa, se siamo titolari dei diritti, in realtà è difficile, soprattutto in un mondo come quello di oggi dove diciamo tutto è stato creato e tutto è a volte una rivisitazione, una commissione di elementi creativi preesistenti e già percorsi da altri appunto è difficile che un autore parte da una tabula rasa totale lo vedo ad esempio con gli sviluppatori, faccio consulenza nell'ambito tecnologico e quindi coloro che fanno software difficilmente partono da una pagina bianca in cui devono scrivere righe partono quasi sempre da pacchetti, da righe di codice di altri prodotti, di altri progetti software che magari sono rilasciati sotto licenze open source o simili e da lì aggiungono la loro parte, quindi vedete che anche in quel caso uno sviluppatore che è un autore, quindi un titolare dei diritti, però deve porsi il problema di essere utilizzatore di una parte di quell'opera e capire in quali termini la può utilizzare nel rispetto della legge ovviamente possiamo poi fare le battute sul fatto che ci sono anche tanti utilizzatori che procedono come dire a kamikaze senza minimamente porsi il problema del diritto d'autore il fatto che appunto voi abbiate chiesto di organizzare un corso mi abbiate chiesto di organizzare un corso su questo tema già vi distingue come persone, come enti che vogliono essere più informati e più rispettosi della legge ahimè però là fuori ci sono un sacco di altre persone un sacco di altri enti, anche a volte società importanti, case editrici cioè quando lo faccio l'avvocato mi trovo a dover affrontare situazioni in cui non ci si spiega come abbiano fatto a fregarsene passatemi il termine così tanto del diritto d'autore della legge quando alcune cose erano abbastanza note, palesi, alcuni principi mi sembrano di comune conoscenza per un'attività, per una casa editrice o per una casa di produzione che di lavoro fa quello però ecco, tolto questa parte diciamo patologica se uno vuole essere preciso deve guardare la materia da entrambe queste ottiche cioè noi per avere una visione completa della materia non possiamo fare a meno che per ogni istituto giuridico ogni principio che io vi illustrerò cercare di guardarlo da tutti e due i punti di vista perché sennò avremmo una visione parziale per una questione logica partiamo dal lato arancione nel senso che iniziamo con un focus abbastanza sbilanciato sul lato del titolare dei diritti perché prima dobbiamo capire davvero quali sono i diritti che la legge mette in campo per la tutela delle opere una volta che abbiamo capito come funziona diciamo in che seminato ci stiamo muovendo allora cominceremo a spostarci sul lato blu e vedere appunto le varie questioni dall'altro punto di vista dall'altro focus e quindi